ciao ragazzi sono qua per dirvi che oggi voglio fare un tutorial per come si fa questo bellissimo braccialetto fatto con le ciambelline le donuts e questa pronuncia fantastica e no vabbè non sono capace a parlare l'inglese già lo sapete chi mi segue quindi lasciamo stare no comunque mi è stato consigliato da un mio carissimissimo amico che lo saluto ciao sicuramente guarderà questo video e mi ha chiesto di fare un marcialetto che deve regalare uguale a questo e quindi in questo video far vedere il tutorial so come si fa allora non è che si vuole un genio a farlo però dai ci ho provato almeno un pochino di compagnia vi faccio e niente io vi lascio al video ciao 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 ciao